Me l'hanno detto, la figlia, la moglie, vaccinati. 90 anni ha? 92. Sperando di arrivare anche a 102. Continua la vaccinazione per gli ultraottantenni, adesso con un'accelerazione a sorpresa. Se noi riusciamo in tempi brevi, come speriamo, a vaccinare questa fascia di popolazione, avremo uno stato di immunità che indubbiamente li potrà preservare. Dal prossimo lunedì saranno infatti triplicate le dosi di Pfizer-BioNTech, destinate ai più anziani e quindi anche ai più fragili. Dalla prossima settimana potremo avere fino a tre fiale, quindi potremo effettuare fino a 18 vaccinazioni, o in sedute multiple o in un'unica seduta, chiaramente distanziati le persone che vengono a vaccinarsi. Sono così i medici di Medicina Generale a prenotare le dosi sul portale regionale dedicato. Lunedì avviene lo scongelamento del vaccino, quindi il vaccino viene scongelato e viene portato ad una temperatura di frigorifero, per intendersi, quindi fra più 2 e più 8, e nella giornata di lunedì ci vengono consegnati. E poi il vaccino potrà essere mantenuto in frigorifero normale per circa 5 giorni. Una volta che le dosi sono preparate, dopo ci sono poche ore, circa 3-4 ore, per poter effettuare la vaccinazione, e quindi è importante che tutte le persone vengano e che quindi nessuna dose di vaccino vada perduta. L'ultima dose è la prova del 9. Sempre i medici contatteranno poi gli assistiti over 80 per fissare gli appuntamenti per la somministrazione. Abbiamo fatto un'estrazione degli ultrottantenni e stiamo andando a ritroso dai centenari all'indietro. Ad oggi gli over 80, ai quali è stata somministrata almeno una dose del siero in provincia di Arezzo, sono 1.500. A posto, grazie. Abbiamo già fatto un piccolo. Sì, però aspettiamo qua un quarto d'ora.